Di fronte Pescara e Foggia, Colombo recupera Brosco, in extremis Cuppone rilancia Palmiero, Alloi diffidato e non al top della condizione, comincia dalla panchina al pari del neobiancazzurro Raffià, davanti conferma del tridente Cuppone, Tupta, Colai, Foggia rivitalizzato dalla cura Gallo, 28 punti in 17 gare, Rossoneri ad un passo dalla finale di Coppa Italia dopo aver eliminato Crotone e Catanzaro. Viene osservato un minuto di raccoglimento per ricordare la scomparsa di Carlo Tavecchio, 79 anni, ex presidente FIGC dal 2014 al 2017, 3-5-2 del Foggia, stesso 11 che ha travolto il Potenza, ancora panchina per alta in attacco il 2002, Jacoponi a fianca Ogunzei e l'avvio sembra essere promettente da parte della Pescara che gira palla da Mora a Cancellotti, uno sguardo in mezzo, il colpo di tacco di Tupta, sorpreso nobile, il portiere del Foggia, il pallone termina la sua corsa sul palo, alla destra dell'estremo difensore foggiano, ex San Benedettese, classe 96, il portiere nobile del Foggia. Poi lo scarico di Jacoponi, il cross molto bello di Costa e il movimento altrettanto bello di Ogunzei che brucia sia brosco che ingrosso, il pallone termina in fondo al sacco, nulla da fare per Pizzari. Dunque sotto misura il Foggia sblocca la situazione con Ogunzei al primo a fondo, nono minuto nel corso del primo tempo, Pescara 0, Foggia 1, la rete di Ogunzei che ha ritrovato il gol nelle ultime settimane, il quinto sigillo in campionato, più tre in Coppa Italia, lo scorso anno realizzò il gol sul rigore all'Adriatico con la maglia del Modena, il Modena vinse 2-1, era ottobre, Pescara 1-1, Modena 2. Poi il Pescara prova a reagire, il cross di Colai, colpo di testa di ingrosso, una parata efficace, non statisticamente perfetta da parte del portiere nobile che comunque sventa in due tempi. Il Pescara è tutto qui, dopodiché soltanto Foggia, calcio d'angolo di costa, gran piede, il colpo di testa a prolungare la traiettoria di Di Pasquale, capitano abruzzese del Foggia di Giulianova, ex giovanini del fino 27 anni compiuti due giorni fa, brivido dunque in area piccola. Poi Jacoponi, lo scarico per Schenetti, la finita, il destro, gran gol. Schenetti, Foggia 2, Pescara 0, questo è il quinto gol realizzato da Schenetti in carriera al Pescara. Quattro con l'Entella, il primo con la maglia del Foggia per il classe 1991, tante partite del Cittadella, anche ottimo giocatore dell'Entella. Rivediamo ancora una volta, si sposta il pallone sul destro, poi commenterà dal punto di vista tecnico queste azioni Fabio Ferraresi, il Foggia dunque raddoppia. Il quarantesimo minuto nel corso del primo tempo, ripetiamo, non c'è partita perché il Pescara praticamente sembra già allo sbando, non ha idee, non ha gioco, soprattutto non ha cattiveria agonistica, non vince un contrasto e dunque ha buon gioco il Foggia con questo gol qui sfortunato. Cancellotti perché sul cross del solito Schenetti ci mette la gamba e c'è Plizzari, viene spiazzato. Quattacinquesimo minuto, Foggia che dunque segna il terzo gol in contropiede con questo cross, sembrerebbe essere proprio così, Schenetti mette il pallone in mezzo, trova lo stinco, la gamba, il piede in realtà di Cancellotti, spiazzato Plizzari. Dunque Foggia che addirittura chiude i conti al termine del primo tempo, 0-3 per la formazione allenata da Fabio Gallo. Siamo nel secondo tempo il sinistro su punizione, nel solito Costa il colpo di testa di Pasquale, evita il quarto gol a Plizzari che va ad anticipare Ogunzei. Siamo proprio all'inizio del secondo tempo, poi 62esimo, ci sono dei cambi 4-2-3-1, entra anche l'ultimo arrivato nelle fila del Pescara. Vale a dire, Raffià al posto di Cuppone, c'è un tentativo di Tupta e poi ancora in contropiede. La formazione ospite, settantesimo minuto, con il neoentrato per alta, aveva preso il posto di Jacoponi, classe 2002. Il sinistro scoccato dai 20 metri, la respinta dell'estremo difensore del Pescara, Plizzari, inquadrati i tifosi del Foggia. Il calcio di punizione, completamente sbagliato, di Lorenzo Milani con la palla che sorvola ampiamente. La traversa della porta difesa da Nobile, settantasettesimo, arriviamo con le immagini all'ottantesimo. Pescara completamente disordinato, Pescara che ha perso anche per infortunio, speriamo nulla di grave. Il capitano, o meglio, il capitano in campo, il capitano con la fascia è ingrosso, Luca Mora, il giocatore più rappresentativo per un contrasto accidentale con Milani. Quarto gol all'ottantasesimo, il neoentrato Beretta aveva preso il posto di Ogunzei, lo scambio con per alta, facile facile. Il gol nel 4-0 per Beretta, che è uno degli acquisti del mercato di gennaio del Foggia. Tra l'altro un ritorno, aveva giocato in Serie B nella squadra pugliese nel 2017-2018, anzi 2018-2019, per essere ancora più precisi, segnando sette gol in quel campionato. Beretta, 4-0 per il Foggia, davvero sprofondo, Biancazzurro, il Pescara che non subiva quattro gol praticamente da due anni. L'ultima volta a Venezia, in Serie B, Venezia-Pescara 4-0. Il Gallo che vince per la seconda volta 4-0 contro il Pescara, era già successo nel 2017-2018 in Serie B quando guidava lo Spezia. Spezia batte Pescara 4-0, colpo di testa di Vergani che era entrato proprio all'inizio del secondo tempo. Siamo al 94esimo, quattro minuti di recupero, triplice fisco del direttore di gara. Dunque a Pescara, Foggia batte Pescara 4-0.